Continuiamo allora la nostra esplorazione della libreria JavaFX e del modo di costruire le applicazioni prendendo come esempio un'applicazione in Cina molto molto semplice. Qui ho fatto due disegni di quello che cerchiamo di ottenere con questo primo esempio di programma in JavaFX. L'idea è essenzialmente un hello world in cui una finestra che immaginiamo fatta in questo modo abbia un campo di testo in cui devo inserire il mio nome e un campo numerico in cui devo inserire la mia età. Quindi immaginiamo che l'applicazione si apra in questo modo, l'utente deve inserire nome ed età e poi cliccherà sul bottone ok. A questo punto l'applicazione dovrà dare il buongiorno alla persona e considerando l'età, quindi ad esempio nel caso di una persona che abbia superato, mettete voi una soglia, 18 anni, allora dirà buongiorno è il nome della persona, dirà in che senso, aggiungendolo ovviamente all'interno dell'interfaccia. Se invece la persona ha un'età inferiore a 18 anni, anziché buongiorno scriverà una cosa molto più colloquiale tipo ad esempio Ciao Giorgia. Quindi questo è ciò che vogliamo costruire. Se parliamo la costruzione quindi in vari passaggi. Il primo passaggio a cui dobbiamo pensare è il layout dell'applicazione. Quindi la parte grafica, quali elementi ci sono, questo l'abbiamo disegnato come se fosse con una penna su un foglio di carta. Adesso da foglio di carta e schizzo fatto a penna, come facciamo a passare a un albero, una scena fatta, costruita con un albero di nodi. Questo è il primo punto. Il secondo punto sarà quello di aggiungere l'interazione, cioè capire come fare a far sì che quando qualcuno preme questo bottone ok l'applicazione reagisca. Ma questo è il secondo passaggio. Il primo passaggio è la costruzione del layout della scena. Cercando di evitare, come ho accennato prima nella prima parte del video, di dover lottare contro i pixel. Quindi dover essenzialmente decidere se una determinata cosa va un pixel più in alto, un pixel più in basso, eccetera. Lo si può anche vedere da questo schizzo. In realtà il nome e l'età non sono perfettamente allineati con i rettangoli. Quindi sono anche un po' bruttini da vedere. Ma questo appunto è uno schizzo. Quando noi costruiamo l'applicazione dovremo essere sicuri di avere un allineamento ben fatto senza dover appunto tenere conto delle singole posizioni. E vediamo come si fa attraverso i componenti di layout. Quindi lavoriamo all'interno del SimBuilder ovviamente ragionando sui pannelli e ragionando sui controlli. Quindi proviamo a costruire esattamente questa applicazione. Allora, andando su SimBuilder del nostro progetto, su cui stavamo già lavorando prima, ci conviene cancellare tutto. Quindi andare qua sull'albero dei nodi e fare un bel delete che cancella tutto e ricostruiamo da zero. Quindi in questo caso siamo partiti da un file shim.xml vuoto e noi vogliamo costruire la nostra interfaccia. Allora, la possiamo già subito immaginare come divisa in due parti. Una prima parte è il titolo, la parte centrale è la parte interattiva e poi volendo potrebbe esserci una parte più in basso che contiene il messaggio. Oppure potrebbe ancora far parte della parte centrale, vediamo. Per far questo, di solito a livello più alto di un'interfaccia, molto spesso è utile ricorrere al contenitore di tipo border pane che troviamo qua. Un border pane, quando vogliamo aggiungere i componenti, essenzialmente basta trovarli nella parte sinistra della libreria e o trascinarli sotto dove c'è l'elenco dei componenti, oppure anche direttamente trascinarli a destra dove c'è l'anteprima dell'interfaccia. Chiaramente l'interfaccia e l'albero dei componenti sono sempre costantemente allineati uno rispetto all'altro. Questo perché ho scelto border pane? Perché il border pane, come vi dicevo, è diviso in 5 sezioni, alto, sinistra, centro, basso e destro, sezioni che ovviamente possono essere vuote, ma la sezione in alto può essere comoda per inserire ad esempio un titolo. Se vogliamo inserire un titolo, un titolo è un elemento che viene visualizzato, quindi ricordiamoci la regola. I contenitori, cioè i pane, i pannelli, controllano i layout degli altri elementi ma essi stessi non vengono visualizzati. Viceversa, i controlli sono elementi che vengono visualizzati, hanno un loro comportamento e però vengono posizionati sulla base delle istruzioni date dai contenitori sovrastanti che li contengono. Noi vogliamo mettere un titolo, se scordiamo qua non c'è una cosa che si chiama title, però c'è un campo che si chiama label, cioè etichetta. Eccolo qua. È un'etichetta, possiamo inserirla all'interno del nostro border pane. Vedete che quando comincio a trascinare lui mi evidenzia le 5 regioni all'interno delle quali potrei inserire l'etichetta. Per me è un titolo, lo inserisco sopra. E l'etichetta che voglio dare, il titolo che voglio dare alla mia applicazione sarà buongiorno. Allora io, l'oggetto etichetta, vedete, è inserito nella sezione top del border pane, adesso si chiama label. Io devo modificare, sicuramente devo modificare il testo. Quindi la proprietà text, in alto destra, di questa etichetta sarà buongiorno. 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 Buongiorno, anziché label. Buongiorno. Ho dimenticato la R. Ok. E poi diciamo che non sembra, non ha tanto l'aspetto di un titolo questa cosa. Beh, non ha tanto l'aspetto di un titolo perché è piccolina. Un titolo noi siamo abituati a vederlo molto grande. Quindi possiamo modificare anche altre proprietà, come ad esempio la proprietà font, che tra le varie opzioni ha anche la dimensione del testo. Quindi ad esempio lo possiamo portare a 24 punti oppure a 30 punti. C'è un 36 che va bene. Quindi è più, diciamo così, simile visivamente a quello che desideriamo, sia all'aspetto di un titolo. Questo è il primo passaggio. Quindi abbiamo aggiunto un elemento qua e l'abbiamo fatto, diciamo così, comparire come se fosse un titolo. È centrato. È centrato, quindi tra sinistra, non ho spostato. Vedete che se io cerco di spostare a sinistra e a destra lui non si sposta. Perché la regola di layout del border pane, anzi del top, dice che il suo contenuto è allineato al centro. E quindi automaticamente viene centrato ciò che inseriamo nel top. Altri blocchi invece hanno dei comportamenti di base diversi. E questo è il titolo. Poi abbiamo il contenuto. Il contenuto è composto, io lo vedo così, da quattro righe. La prima riga contiene questa prima casa di testo, la seconda quest'altra casa di testo, poi c'è il bottone e poi ci sarà il messaggio di risposta. Quindi sono quattro elementi organizzati verticalmente. Allora andiamo a vedere quali sono i contenitori che possono organizzare degli elementi verticalmente. Tra i vari contenitori, cerchiamo di espandere un po' questa zona. Ecco, questi sono tutti i contenitori a cui abbiamo accesso. Quelli più utili, ve li accenno, sono le scatole. Quindi il V-box, scatola verticale, cioè elementi impilati uno sull'altro verticalmente. E il suo simmetrico H-box, cioè scatole orizzontali, impilate da sinistra verso destra, quando gli elementi vengono inseriti da sinistra verso destra. Oppure direttamente una griglia dove gli elementi vengono disposti su una griglia riga-colonna e quindi incasellati in questo modo. Questa non è una tabella come facciamo in Word, perché non viene visualizzato, è semplicemente una serie di caselle nelle quali vengono infilati gli elementi. Se vogliamo visualizzare qualche cosa dovremmo invece costruire un nodo di tipo table che invece si comporta in modo diverso. Questi sono i contenitori di base, oltre al border pane che contiene l'applicazione, impilamento orizzontale, impilamento verticale e disposizione a griglia. Poi ci sono chiaramente altri tipi di contenitori, come ad esempio il flow pane, che di fatto è come se mettessi gli elementi da sinistra verso destra, si comporta un pochino come un H-box da sinistra verso destra, ma poi quando termina la riga va a capo e riprende da sotto. E quindi in funzione della larghezza della finestra si è adatta automaticamente il numero di elementi da visualizzare. Un po' come immaginate molti siti che hanno un'anteprima di miniature, di fotografie, a seconda della larghezza della finestra queste fotografie vanno a capo o si rispongono in modo diverso. Ci sono poi ad esempio i tab, cioè un pannello con più linguette in alto che ti permette di contenere nella stessa stage più contenuti cambiando tra l'uno e l'altro, o l'anchor pane che avevamo già visto prima, che permette di disporre gli elementi nella posizione che vogliamo, diciamo così, contando il numero di pixel dal bordo sinistro, destro, alto, basso, essenzialmente sono gli elementi principali. Poi come vedete ce ne sono molti altri, ecco uno forse che ha un nome non tanto intuitivo, accordion, accordion sta per fisarmonica e serve per costruire menù come questo. Ecco questo che vediamo sulla sinistra è un accordion, una fisarmonica. Tante sezioni delle quali una viene espansa e le altre vengono collassate. Quindi quando avete tanti controlli sulla stessa pagina è un contenitore che potete utilizzare. Veniamo a noi. La tipo di interfaccia diciamo che somiglia a qualche cosa fatto di quattro righe impilate, quindi possiamo costruire una V-box e metterla all'interno della parte centrale del border pane. Non si vede nulla perché ovviamente la scatola è solo un contenitore trasparente e dobbiamo metterci gli elementi dentro. Però vedete che abbiamo border pane che contiene V-box a un certo punto. Adesso dentro questo V-box dobbiamo cominciare a riempire i contenuti. Quindi il primo contenuto è questa riga qua, fatta da due elementi, uno più a sinistra e l'altro più a destra. Poi c'è la seconda riga, sinistra e destra. Quindi qui possiamo immaginarci due H-box ad esempio, una per la prima riga e l'altra per la seconda riga. Quindi io prendo il contenitore, tra l'altro se so già come si chiama il contenitore o il nodo posso scriverlo direttamente nella casella di ricerca. Un H-box, un'altra H-box. Che però devo fare attenzione che vada a fianco e non dentro. E poi avrò come ultima cosa un bottone. Un bottone che metto qua come terzo elemento. Quindi abbiamo una V-box che contiene tre elementi per ora, due H-box e un bottone. Come dicevo qua non sono visibili i confini, i bordi di questi elementi. Dobbiamo un po' immaginarceli dove sono. E come contenuto ci manca ancora questa etichetta e questa casella di testo. Quindi l'etichetta in ciascuna H-box, scusate, c'è come uno scatolo orizzontale. Metto un'etichetta, un'altra etichetta di qua. E poi una casella di testo. Se cerco text mi dà due tipi di campi, un text area e un text field. La differenza è che il text field occupa una riga sola e una text area invece occupa un rettangolo di testo. In questo caso ci basta una riga sola, text field. Fate attenzione a prendere il componente in grigio e non in quello in azzurro, perché quello azzurro è per la versione mobile di JavaFX e non funziona su PC. Allora, text field. Lo inserisco come secondo elemento del H-box. A volte è più comodo inserirlo qua direttamente. E qui in alto text field lo inserisco qua. Vedete che abbiamo posizionato gli elementi, ma sono venuti molto male. Sono venuti molto male perché la spaziatura è completamente sbagliata. Gli spazi sono completamente sbagliati. Dobbiamo aiutare questi elementi, questi contenitori, ad adattarsi alla dimensione del contenuto che ci serve. Allora, magari come prima cosa modifichiamo l'etichetta, e così sappiamo esattamente quanto spazio occupa la frase il tuo nome. E l'altra etichetta sarà la tua età. Quindi prendo quest'altra etichetta, modifico la proprietà text, la tua età. Perché non mi prende questo colore? La tua età. Ok, invio. Allora, dicevo, hanno delle spaziature che per noi sono sbagliate. Perché? Ma perché quando io inserisco un elemento, V-box ad esempio, qui ci sono le varie proprietà che definiscono il nodo, ma se andiamo a vedere sotto ci sono altre proprietà che vanno sotto la categoria delle proprietà di layout. E ogni elemento ha una dimensione che è variabile. La dimensione è variabile perché, andiamo in modalità anteprima, io posso pensare che una determinata finestra di questa applicazione possa ridimensionarsi e quindi in qualche modo il contenuto si possa adattare. non è fissa la dimensione del V-box e dell'H-box. Si adatta sulla base delle regole di layout e del contenuto. Quindi bisogna trovare che cosa contiene e di quali regole ha. Ad esempio, le regole più semplici sulla dimensione sono raccolte da queste sei proprietà. Qual è la larghezza minima? L'altezza minima di questa, in questo caso selezionare la V-box. La larghezza preferita, l'altezza preferita, la larghezza massima e la larghezza massima. Ecco, in questo caso, quando io carico una V-box sulla mia scena, viene impostata con la dimensioni preferite 100x200. Se io tolgo questo e modifico questo 100 in un numero diverso, o meglio ancora, vado a prendere questa costante simbolica che si chiama Use Computed Size, sia per la larghezza che per l'altezza, quello che ottengo è che la V-box si adatta al suo contenuto. Non è cambiato nulla. Perché non è cambiato nulla? Perché sono poi le H-box, a loro volta, che hanno un'altezza e una larghezza predefinita. Quindi la cosa che io preferisco fare è dire a ciascun elemento, guarda, adattati, quindi vado a prendere la seconda H-box, adattati alla dimensione del tuo contenuto. La stessa cosa per il border pane, che ha una certa sua dimensione, lo impostiamo a Computed Size, il poverino collassa un pochino, ma si adatta, quindi prende la dimensione esatta del suo contenuto. In questo modo i vari componenti di layout chiedono ai componenti che hanno dentro, tu quanto sei grande? Ecco, io mi adatto alla tua dimensione. Fermo restando che ovviamente se la dimensione fosse più grande, in qualche modo si possono espandere. In questo caso non si espandono un granché perché non abbiamo degli elementi in più da visualizzare. Così non ci sono spazi di troppo, ma è altrettanto brutto, forse più brutto di prima. Dobbiamo allinearli un po' meglio. Allinearli, ad esempio, dando un po' di spaziatura. Non devono essere appiccicate queste varie cose e quindi dire alla V-Box di dare una spaziatura. Vedete che ci sono sempre nella proprietà di layout della V-Box, queste erano le dimensioni, queste sopra sono le spaziature. Quindi quanto margine dare ai bordi, in alto, a destra, in basso, a sinistra, quanto margine interno, che si chiama padding, e quanto spazio lasciare tra le varie righe della V-Box. Quindi, ad esempio, se mettessi 5 pixel, vedete che si staccano i vari elementi. E poi magari do ancora 5 pixel di margine esterno, e con questa frecciolina qua copio il 5 nelle quattro dimensioni. E quindi è già un pochino meglio. A questa stessa H-Box posso dare una spaziatura minima di 5. Quest'altra dare una spaziatura, così separo l'etichetta dalla casella di testo. Poi queste etichette, questa casella di testo, non sono ben allineate. Vedete che le due casella di testo, perché ovviamente il tuo nome è una frase un pochino più lunga della tua età. Allora, in questo caso potremmo forzare l'etichetta ad avere un'ampiezza, che non è quella calcolata, ma un'ampiezza fissa. Adesso qui ci sta dicendo che l'etichetta occupa uno spazio calcolato, e lo spazio calcolato, andiamo a leggere l'attributo white, la larghezza è 61. Quindi se io dicessi che la larghezza preferita sarà 65, e anche sulla seconda etichetta dico che la larghezza preferita è 65, a questo punto vedete che il testo si allinea. Quindi c'è un po' di lavoro da fare, diciamo, dal punto di vista estetico. Il mio consiglio è sempre di lavorare con i contenitori, quindi lavorare in modo logico, in modo gerarchico, e non tanto invece concentrandosi sui pixel che ci sono. Ecco, l'altra cosa che ci è rimasto è che questo bottone, poverino, è rimasto allineato a sinistra, mentre noi lo preferivamo allineato a destra. Possiamo vedere se qua si può allineare a destra. No, perché questo qua è l'allineamento del testo contenuto nel bottone. Content display, right, neanche. Ecco qua. Center right. Ops, perdono. Perché mi fa questa cosa? All'alimento non ricordo. Forse è qua. Alignment. Eccolo qua. Ho dovuto modificare l'allineamento della V-Box, chiaramente, dicendo che i vari elementi della V-Box siano allineati a destra, perché il bottone faceva parte della V-Box. Quindi qua un pochino bisogna, diciamo così, giocare, prendere familiarità con queste varie proprietà. Alla fine, il meccanismo è sempre lo stesso. Ho tante proprietà, devo capire ciascuna proprietà che cosa fa. Ad esempio, la proprietà che ho modificato adesso di allineamento nell'alignment della V-Box, se io ci clicco sopra, mi apre la documentazione e mi porta al punto in cui mi dice che questo è l'allineamento generale dei figli, quindi dei nodi interni, che in questo caso sono le due V-Box del bottone, all'interno della V-Box, della dimensioni, diciamo così, della V-Box, quindi dove si posizionano i figli all'interno del contenitore. E così via. Adesso dobbiamo ancora aggiungere lo spazio per la risposta. Quindi finora, rispetto al nostro esempio, abbiamo realizzato il titolo, la prima riga, la seconda riga, il bottone, ah, il bottone devo chiamarlo ok, e poi devo lasciare lo spazio per la risposta. Allora, il bottone non si chiama button, ma si chiama ok, quindi modifico la proprietà text, va bene così, e poi lo spazio per la risposta. Il spazio per la risposta sarà un'altra riga, un'altra casella all'interno della V-Box, ovviamente, e quindi potrebbe essere un'altra label che inizialmente lasciamo vuota, e poi ci scriveremo qualcosa dentro. label all'interno della V-Box, quindi qua, non qua, 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 ma qua come ultima, messa qua dentro. Adesso questa poverina è allineata a sinistra, ma noi dobbiamo dare le dimensioni, larghezza minima, vediamo se posso dire 100%. lo calcola solamente in pixel, non in valori, quindi possiamo dargli una versione a dimensione... il problema è che qui uno da voglio l'allineato a sinistra, l'altro da voglio l'allineato a destra, e quindi non va bene, allora devo dire alla V-Box di allineare tutto a sinistra, top left, e la label va bene che sia qui, e il bottone ok non lo posso lasciare qua, lo dovrò inserire, in una V-Box che contiene solo lui, e dire all'H-Box invece di allineare le cose a destra. Ci richiede un po' di dimestichezza andare in scatolare questi elementi. Questa etichetta inizialmente sarà vuota, quindi invisibile in qualche modo, non contiene nulla. Ecco, questa è la nostra interfaccia, di partenza, lo possiamo salvare. Quindi il primo problema, cioè costruire un'interfaccia che abbia questo aspetto, l'abbiamo risolto. Il secondo problema, invece un pochino più complesso, più, diciamo così, informatico, più di programmazione, e ci richiede di dare un comportamento dinamico alla nostra interfaccia, e per questo dobbiamo imparare qualche concetto in più che JavaFX ci mette a disposizione. Essenzialmente noi abbiamo capito che i vari nodi hanno delle proprietà. Queste proprietà, giocandoci un attimo, abbiamo capito sicuramente che ci servono, ci possono servire per impostare il layout, per modificare il modo in cui vengono visualizzati e il testo che viene mostrato. Questa è solo una parte, ovviamente. Queste proprietà, dicevo, che noi vediamo sull'interfaccia, sono tenute aggiornate bidirezionalmente, quindi sono sincronizzate, con le proprietà degli oggetti Java che costituiscono i singoli nodi. Quindi dal nostro codice eseguibile possiamo leggere e scrivere queste proprietà. Come facciamo? Beh, innanzitutto dobbiamo far sì che i nodi che ci interessano dell'interfaccia siano accessibili dal nostro programma Java. Siano accessibili, ossia abbiano un nome di una variabile. Questo nodo qui, questa area di testo qui, è un nodo, c'è, esiste, però io dal mio programma, se non so come chiamarlo, non posso ovviamente accedervi. E allora il modo è quello di, vedete che adesso a questo punto, adesso tra le proprietà, abbiamo le proprietà principali, le proprietà di layout, apriamo l'ultima parte di questo pannello che è relativa alle proprietà del codice. E la prima proprietà di codice che è presente su tutti gli elementi si chiama identità, id. Questo attributo id associa una variabile Java a quel nodo che stiamo selezionando in quel momento. E quindi dal programma Java potremo poi leggere, scrivere e modificare tutte le proprietà di quel nodo. Degli altri nodi non così facilmente, perché non avranno un nome. Quindi in questo caso noi abbiamo il nome, decidiamo una variabile Java che corrisponda a questo nome, con cui vogliamo fare riferimento a questo nodo. Io lo chiamo ad esempio txt nome. nome, nome. nome. Perché fa così? txt nome. no, m. no, m. e. Stavo facendo il pasticcio con la tastiera. Perché txt nome? txt perché mi ricorda che è una casella di testo e nome perché mi ricorda il contenuto. E quindi la seconda casella di testo, questo altro text field, lo chiamerò txt età, e t a, senza accento per non confondermi con Java. poi il bottone mi servirà, chiamiamolo btn ok, button ok, e l'etichetta invisibile qua sotto, che la vado a prendere da qua, perché di là è invisibile, la chiamo lbl, per dire che è una label, risposta, risposta. Quindi io sto dando dei nomi, non a tutti i nodi dell'interfaccia, solamente a quei nodi a cui voglio che il mio programma abbia accesso. Cioè io prevedo quali sono i nodi, le cui proprietà il programma vorrà leggere o vorrà scrivere. Chiaramente il programma deve sapere qual è il mio nome, sapere qual è la mia età, sapere quando premo ok, e avere il riferimento al nodo nel quale scrivere la risposta. Quindi qui ho aggiunto delle proprietà id all'interno dell'identità, all'interno dei singoli nodi. Ok. Dove vanno a finire queste proprietà? Queste proprietà sono disponibili all'interno di una classe controller. E qui apriamo l'ultimo pannello a sinistra, controller. Noi possiamo, dobbiamo, creare una classe, identificare una classe associata all'interfaccia grafica. Cioè l'interfaccia grafica, l'fxml è sufficiente a se stesso per quanto riguarda il comportamento nativo dei singoli elementi grafici. Quindi se io facessi il run adesso, lui partirebbe e farebbe esattamente cosa succede col preview. Una finestra in cui posso scrivere cose, posso scrivere cose, e posso cliccare su ok, ma non succede nulla, ovviamente, perché non c'è nessun comportamento che è associato a questo. Io voglio associare un comportamento aggiuntivo. Il bottone ok sa cosa vuol dire essere cliccato, ma non sa che cosa fare quando viene cliccato. Allora, questi comportamenti aggiuntivi, cioè il bottone sì, va bene, fatti cliccare, ma in più dopo che ti ho cliccato aggiungi un testo? Non lo può sapere. Devo, scriverò io, quindi dovrò creare dei metodi Java che esegue, che gli datano intercettare l'azione di bottone premuto e agiscono di conseguenza. Tutti questi metodi sono raccolti in una classe che si chiama controller, controller class. Se noi andiamo, possiamo inserire il nome di una classe controller all'interno del nostro progetto, andiamo a riprendersi il progetto, ce n'era già una, si chiamava fxmlcontroller.java. Quindi questa classe qua la possiamo, dobbiamo inserire ovviamente il nome intero, punto fxmlcontroller, che è il nome della classe, eccola qua, controller. Quindi stiamo dicendo, caro interfaccia grafica, tu hai questi elementi, ma tutte le volte che capita un comportamento, vuoi gestire un comportamento aggiuntivo su qualcuno dei tuoi elementi, devi fare riferimento ai metodi che sono implementati in questa classe controller. In particolare in questa classe controller saranno disponibili queste quattro variabili relative a questi quattro nodi. Come deve essere fatta questa classe controller? Vabbè, ci aiuta anche lo SimBuilder, perché, dunque, all'interno del menu View, l'ultima voce è mostra show sample controller skeleton, cioè mostrami un esempio di scheletro di controller. E in questo caso, vedete che è esattamente una classe che contiene java xpresscode, come abbiamo specificato qua, lo copio ovviamente da qui questo valore, public class fxmlcontroller, e qui ci sono txt nome che è un text field, txt età che è un text field, button ok che è un button, e label risposta che è una label. Quindi queste variabili, private, sono variabili interne alla classe, si chiamano con gli id che abbiamo specificato prima, sono di tipo text field, oppure button, oppure label, cioè del tipo del nodo, e verranno, grazie a questo attributo, chioccio alla fxml, verranno automaticamente inizializzati a puntare al nodo che ci interessa. Se noi aggiungiamo la parte full, quindi selezioniamo un controller full, lui aggiunge ancora un metodo che si chiama initialize, che conviene lasciare, che riporta, oltre a fare qualche controllo in più, soprattutto è il punto in cui si può aggiungere il codice che verrà eseguito all'inizializzazione del controller stesso. Quindi se avremo poi bisogno più avanti di eseguire il codice iniziale per pre-calcolare, pre-popolare alcuni elementi, e lo faremo all'interno di questo metodo. Il bottone copy ci permette di copiare completamente questo e andare a incollarlo nella nostra classe controller. A questo punto si può provare a eseguire il programma perché abbiamo un nuovo fxml, che è questo, abbiamo una nuova, adesso lasciamo aprire, guardiamolo, open with text editor. Questo è l'fxml che abbiamo appena editato direttamente in modo grafico. Da qua. Adesso possiamo, ricordiamoci di salvarlo, non so se l'ho salvato l'ultima versione. Ok, e torniamo su Eclipse, lui lo riaggiorna. Abbiamo il controller che tiene conto di questi elementi, abbiamo il main che possiamo lanciare. Allora, adesso lo stesso progetto di prima mi mostrerà l'interfaccia aggiornata di buongiorno. Questo è il nostro programma, chiaramente se clicco ok non succede ancora nulla, va bene. Però, sappiamo che il controller in qualche modo avrà la possibilità di leggere questo testo, leggere questo testo come? Andando a leggere la proprietà text del 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 nodo che si chiama txt nome. Così come potrà andare a modificare questi valori sempre modificando la proprietà di questi oggetti. Il problema è quando lo fa. Cioè, lui deve leggere questo nome e modificare la proprietà dell'etichetta quando? Quando l'utente preme ok. Allora, dobbiamo capire che la interfaccia grafica si deve predisporre a qualunque azione mai l'utente potrà fare. Intercettare queste azioni che l'utente vuole fare e quando intercetta una certa azione esegue un metodo del controller. Ogni elemento dell'interfaccia grafica genera in continuazione decine e centinaia di eventi. L'evento potrebbe essere anche semplicemente l'utente ha spostato il mouse oppure ha premuto shift oppure ha premuto lo spazio. Tutte le azioni che fa l'utente generano eventi. Alcuni eventi su alcuni nodi ci interessano. allora gli eventi sui nodi che ci interessano e sui nodi che ci interessano li possiamo catturare. Catturare con un gestore di eventi che ci costruiamo noi. Gestore di eventi in inglese event handler. Quindi ogni nodo genera eventi che raccontano che cosa gli sta succedendo. Alcuni eventi su alcuni nodi ci servono perché il programma deve reagire. su quegli eventi di quei nodi definiamo un gestore di eventi. Un gestore che cos'è? Non è altro che un metodo un event handler non è altro che un metodo della classe controller. Quindi per ora la classe controller abbiamo visto che contiene dei riferimenti ai nodi che qui ho chiamato interessanti cioè quelli che vogliamo vedere quelli di cui abbiamo definito l'ID identità in più aggiungiamo anche i gestori di eventi. Come facciamo ad aggiungere i gestori di eventi? Di nuovo è molto facile basta tornare sul nostro sim builder e chiedeci qual è l'evento che ci interessa catturare? Beh ci interessa catturare quando l'utente preme ok. Allora vado sul nodo ok sempre pannello code sulla destra e vedo tutta una serie di eventi che sono elencati qua moltissimi che sono generabili dal bottone on action action è quello che ci interessa di più cioè l'action di un bottone l'azione principale del bottone è quella di essere premuto oppure drag quindi quando l'utente cerca di fare drag and drop di spostare l'elemento oppure tutti gli elementi sulla tastiera quando l'utente ha premuto un tasto lo ha lasciato andare ha finito di scriverlo quando clicca il mouse sposta il mouse il mouse entra in una zona il mouse esce da una zona eccetera eccetera il mouse si sposta la rotellina viene girata nel caso in cui fossimo su un tablet su uno smartphone uno smartphone viene ruotato se ha accelerometro il swipe sinistra destra tutti i gesti e le interazioni che siamo abituati a fare sono catturati e trasformati in eventi ad esempio a noi non interessano eventi complicati in questo caso ci interessa solamente sapere quando il bottone ok è stato premuto e io definisco un gestore di questo evento c'è il nome di un metodo io li chiamo tutti handle qualcosa handle vuol dire gestisci questo evento e l'evento sarà ok diciamo metto il nome del metodo handle ok quindi ho specificato l'id l'identità di tutti i nodi con cui voglio interagire nel controller voglio poter leggere o scrivere le proprietà e definisco gli event handler sui nodi dei quali mi interessa qualcosa ad esempio soprattutto sul bottone ok in questo caso potrei anche definire delle azioni sul campo di testo nome ad esempio soprattutto se volessimo impedire che un utente inserisca nel nome dei caratteri che non ci piacciono potremmo andare a intercettare la key press quindi ogni volta che lui preme un tasto prima di inserirlo controlliamo che sia valido ad esempio ma per il momento non ci interessa queste cose sofisticate allora quando io ho definito questa azione sul bottone ok che cosa capita vado a prendere il mio scheletro di controller e vedete che lo scheletro di controller ha due righe in più che sono qua fxml void handle ok event quindi questo è stato aggiunto poiché nell'fxml ho specificato che mi interessa intercettare l'evento azione l'evento principale del bottone ok allora il controller dovrà avere un metodo handle ok per si chiama in questo modo perché ho scelto così per gestire questo evento quindi io adesso aggiorno tutto il controller con questo scheletro aggiornato con questo evento ogni qualvolta l'utente preme ok automaticamente l'applicazione javafx chiama questo metodo non ci credete possiamo farlo farla verifica println scriviamo qualcosa sulla console println e dai scriviamo x sulla console ok allora salvo questo e provo a eseguire il programma eseguo l'applicazione parte questo c'è sempre questo warning ma non è un grosso problema perché ha a che vedere con la leggera discrepanza di versione tra javafx e l'fxml non preoccupatevi di questo warning a questo punto io se premo ok non succede nulla perché non succede nulla riproviamo ah ecco questo è l'errore comune io ho modificato l'fxml ho modificato il controller ma eclips si è dimenticato non si è accorto che ho modificato l'fxml quindi sta ancora usando la versione dell'fxml vecchia che non aveva l'event handler per risolvere il problema basta riaprire il file fxml dentro eclips e rilanciare il progetto è una trappola nella quale come vedete ci casco ancora io qualche volta e non funziona lo stesso ho messo l'event handler no non ho salvato di qua purtroppo dovendo lavorare con un tool esterno come lo sim builder a volte uno modifica qua ma deve ricordarsi di salvare salvare in sim builder riaprire l'fxml in eclips così si accorge che è modificato e poi finalmente fa run e quindi quando premo ok finalmente scriverà qualcosa nella console ogni volta che premo ok quindi non facciamoci prendere dal panico se abbiamo modificato qualcosa nell'fxml e sembra che non l'abbia preso è perché non l'ha preso effettivamente quindi salvare l'fxml controlliamo l'avere salvato tornare in eclips riaprire il file xml in forma testuale in modo che lui si accorga che è stato modificato e a quel punto dovrebbe funzionare purtroppo il ciclo è un pochino lungo per questo motivo e come vedete uno si concentra su alcune cose e rischia di dimenticare le altre allora al netto di questa parentesi che ci ha anche fatto bene perché ci ricorda la necessità di andare a aggiornare vedete che ad esempio qua quando io sposto come dicevo prima i nodi di layout visto che hanno l'allenamento alla destra l'allenamento al centro ridispongono non dico con intelligenza ma con le regole che gli ho dato i vari elementi che ho specificato allora quando premo ok viene eseguito questo metodo e noi ce ne accorgiamo perché effettivamente nella console viene scritto proprio il messaggio ok adesso ovviamente non devo scrivere ok sulla console ma dovrò scrivere buongiorno nell'etichetta di testo ma questo è facile perché a questo punto lavoro solo più nel controller quando viene premuto questo bottone ok cosa devo fare? beh prima cosa devo capire qual è il nome della persona quindi string nome il nome della persona come faccio a saperlo? beh devo andare a interrogare la proprietà text del campo di testo che si chiama txt nome vabbè txt nome è un oggetto java punto get e il get mi darà tutte le proprietà la proprietà che mi interessa è la proprietà text get text che leggiamo sempre leggiamo sempre la documentazione è il contenuto testuale di questo controllo ok quindi dentro questa stringa c'è scritto il nome e come faccio a far comparire il saluto all'interno della casella della label sottostante e allora dovrò ovviamente definire saluto come buongiorno virgola nome punto esclamativo e poi impostare la proprietà text dell'etichetta label risposta a questo valore di saluto quindi lbl risposta che è il nodo sottostante punto set text questa volta dobbiamo cambiare il testo set text saluto fatto è fatta la prima parte poi aggiungeremo la gestione dell'età ma facciamo sempre abituiamoci sempre a fare un passettino per volta implemento un pezzettino lo testo poi ne implemento un altro lo testo lo provo e poi così via non scrivete mai più di 5-10 righe di codice senza testarle senza provare a eseguire il programma e vedere se funziona prima di andare avanti verifichiamo che questo funzioni allora ripartiamo rieseguiamo il main a questo punto inserisco il nome il mio nome Fulvio scrivo ok e sotto mi scrive buongiorno Fulvio ottimo funziona se cambio il nome mi chiamassi per caso Giovanni premendo ok mi direbbe buongiorno Giovanni quindi faccio una parte di ciò che serve beh questo da qui in poi è in discesa nel senso che noi dobbiamo dire sì però attenzione che se è minore di 18 devo dire ciao anziché buongiorno e allora devo trovare l'età l'età ovviamente mi viene fornita sotto forma di stringa perché l'età chiamiamola l'età S perché è una stringa la posso estrarre da txt età punto get text però a me serve il valore numerico e quindi dovrò convertire la stringa in intero quindi sarà un intero età numerica uguale integer punto parse int della stringa età sotto forma di stringa queste sono le cose antipatiche della gestione dei valori e a questo punto avendo l'età se l'età è minore di 18 allora dirò che string saluto uguale non è buongiorno ma ciao else ma che questo è codice stupido no? non c'è nulla di particolare anzi no scusate qui string saluto non lo posso definire qua lo devo definire qua in modo che sia visibile ancora sotto quindi qui tolgo la definizione riformato e questo punto dovrebbe modificare il saluto sulla base dell'età quindi se io prendo il mio nome e la mia età mi dice buongiorno se prendo se invece avessi 10 anni mi direbbe ciao e quindi si adatta all'input e poi non abbiamo finito perché cosa capita se uno non mette il nome non mette l'età se non mette il nome mi dice ciao punto esclamativo che non è bello da vedere se non mette l'età peggio ancora da un'eccezione di number format exception perché quando lui cerca di fare il parsinte di una stringa vuota si arrabbia così come se al posto dell'età lui mi mettesse un testo chiaramente da un'eccezione allora ogni volta che acquisiamo i dati dall'utente dovremo purtroppo avere molta pazienza e verificare che tutti i dati siano corretti e quindi ad esempio il nome deve esistere quindi if nome length punto length uguale a 0 allora non va bene cosa devo fare dovrò segnalare all'utente un errore ad esempio lo posso segnalare sempre nella labor risposta anziché mettere di saluto dirò labor risposta punto set text gli dirò devo inserire il nome e poi e poi interrompo non devo andare avanti a fare il resto perché a questo punto è un errore che mi impedisce di procedere cosa vuol dire impedire di procedere non è che devo chiudere il programma semplicemente questo gestore di evento ha finito il suo lavoro non posso fargli fare nguro altro e quindi lo faccio ritornare interrompo l'esecuzione quando trovo un errore di input lo segnalo e interrompo l'esecuzione e qui la stessa cosa essenzialmente devo devo fare devo aggiungere dei controlli sul fatto che se la età è vuota quindi copio questo allora devo inserire l'età ok a questo punto se c'è la stringa posso provare a parsificarla non è detto che ci riesca potrebbe darmi eccezione allora qui devo fare un try catch int età try età uguale parsint catch si chiamava number format exception vero catch allora il parsint mi dice non mi ricordo come si chiama l'eccezione che devo catturare però il parsint vado a vedere la documentazione e mi dice che questa documentazione che questo metodo scusate può generare una number format exception allora devo catturare la number format exception nel caso in cui venga generata exception in questo caso anche qui devo interrompere l'esecuzione del metodo quindi questa volta il messaggio è l'età deve essere un numero ed esco quindi ho irrobustito un pochino questa applicazione facendo dei controlli in più dove ad esempio appunto il tuo nome se non inserisco nulla scusate premo ok mi dice devi inserire il nome allora inserisco il nome premo ok mi dice devi inserire l'età inserisco un'età sbagliata l'età deve essere un numero 40 non vi ho più ma farò stesso buongiorno Fulvio e così via quindi da qui in poi è facile nel senso che dobbiamo semplicemente lavorare in java facendo i controlli che dobbiamo fare di questo metodo handle ok l'algoritmo è qua sono queste tre righe a seconda dell'età fai un saluto che è fatto in un modo oppure in un altro tutto il resto è acquisizione dei dati e controllo dei dati che è sempre molto noioso molto lungo ma devo poter prevedere tutti gli errori possibili e poi diciamo così l'aggiornamento dell'interfaccia quindi è un po' come se avessimo quattro fasi fase 1 acquisisco i dati fase 2 controllo che i dati siano corretti fase 3 faccio il lavoro che devo fare quindi la parte algoritmica la parte di logica fase 4 aggiorno l'interfaccia sulla base dell'esito dell'algoritmo dopodiché chiudo graffa cioè il controllo ritorno all'interfaccia grafica la quale è pronta ad aspettare altri comandi questo è il ciclo questo è il ciclo eterno delle interfacce grafiche le interfacce grafiche compongono l'interfaccia e rimangono in attesa di eventi quando un evento tra quelli che avevo definito che volevo intercettare si verifica allora eseguo il codice e questo codice quindi scatenato dall'evento farà sempre le stesse quattro cose acquisisco i dati che mi servono li valido il controllo eseguo la logica operativa e finalmente aggiorno l'interfaccia di conseguenza acquisire i dati e aggiorno l'interfaccia significa null'altro che interagire con le proprietà in questo caso abbiamo interagito solamente con le proprietà text set text get text dei vari nodi dell'interfaccia nodi che abbiamo elencato prima ai quali avevamo dato un id in modo da poterli poi usare e raggiungere facilmente dal nostro codice quindi queste sono se vogliamo le nozioni di base che ci permettono di lavorare all'interno di applicazioni JavaFX gli eventi vengono generati vengono catturati dagli event center del controller e avevo una figurina ecco qui ci sono un esempio del tipo di eventi che sono generabili ma per quasi tutti noi era l'action principale del bottone e quindi ecco volevo chiudere su questa figura su questa immagine che ci riassume un po' qual è l'architettura generale di un programma JavaFX qui noi abbiamo il programma main che non fa altro che lanciare il tutto carica la fxml crea i nodi la classe fxml loader crea i nodi e lancia il tutto e fa partire il tutto i nodi sono descritti nell'fxml in formato testuale noi lo editiamo in modo grafico sia nodi di layout che nodi di controllo quando l'applicazione è partita ci sarà la classe application che è la classe madre che prende il controllo e i singoli nodi che intercettano le azioni dell'utente a volte un'azione deve essere gestita quindi ha un event tender definito un gestore di evento definito come ad esempio quando clicco ok quindi quando il nodo controllo in questo caso il bottone genera un evento che viene catturato questo chiama un metodo dentro il controller il metodo del controller può leggere le proprietà dei nodi che gli interessano ragionarci e poi aggiornare le proprietà di altri nodi di conseguenza in funzione di che cosa ha ottenuto il main è sempre lo stesso l'fxml dobbiamo progettare tenendo conto di il layout che vogliamo i controlli che vogliamo inserire e di questi controlli quali devono essere accessibili al controller per poter leggere e scrivere le proprietà e a questi diamo un id quali di questi controller invece generano eventi che ci interessano e per questi definiamo un event tender un gestore di eventi questa è l'architettura minima ci permette di fare applicazioni molto semplici come vedremo nella prossima lezione dove faremo insieme un esercizio per un semplice giochino di indovinare il numero faremo il giochino per impattichirci bene con questa architettura ma nello stesso tempo ci accorgeremo che questa architettura ha delle limitazioni perché a questo punto il controller deve fare tutto lui deve leggere le proprietà deve controllare gli errori deve gestire la logica del gioco deve capire chi ha vinto e chi ha perso eccetera eccetera e il codice dentro il controller diventerà sempre più complicato allora quindi l'obiettivo di questa settimana è proprio quello di impattichirci con questa architettura fare abbiamo fatto questo tempietto minimale del buongiorno faremo subito nella lezione successiva l'esercizio dell'indovina il numero in questo modo la settimana prossima invece cercheremo di fare un passo avanti e capire come disaccoppiare il codice che gestisce l'interfaccia utente perché il controller alla fine è al servizio della scena e quindi a poter separare la gestione dell'interfaccia utente rispetto agli algoritmi delle strutture dati che poi dovranno essere diciamo così l'obiettivo principale e anche loro saranno complesse quindi è meglio non mescolare la gestione degli algoritmi con la gestione degli eventi dell'interfaccia però questo sarà il lavoro della settimana prossima per ora cerchiamo di familiarizzarci con questa architettura con la creazione dell'fxml la definizione degli id e degli event handler e l'implementazione di qualche controller grazie e ci vediamo alla prossima al video grazie